La nostra prima esperienza è stata meravigliosa, veramente ci siamo divertiti, siamo stati bene, siamo riusciti veramente a partecipare a tutti gli eventi. La famiglia Spinoza e Stop Travel sono veramente meravigliosi, eccezionali. La cosa bellissima è che noi ci siamo trovati nel pieno di un corso sulla storia della musica e del teatro napoletano, cosa che non ci aspettavamo in una crociera, quindi è stata veramente una bella esperienza, anche culturale.